E' solo un sollecito di alcuni amici e colleghi sindaci che spingono, è solo una chiacchierata ma niente di ufficiale, quindi questo spetta al partito, alla segreteria provinciale decidere la scelta migliore per questa competizione provinciale. Poi sul resto tutti sanno che siamo in attesa delle primarie per l'ascesa in campo, quantomeno di De Luca, uno dei candidati possibili, ma secondo me il più appetibile che possa portare un buon risultato per affrontare Caldoro, quindi è tutta una discussione in itinere, quindi il Partito Democratico e i sindaci decideranno quali saranno le scelte. Io non do nessuna disponibilità ma quantomeno vorrei partecipare alla discussione in questo momento dei processi che ci vedono da qui a sei mesi, sette mesi in una competizione molto delicata e difficile, quindi questo lo si farà collegialmente con tutti.